Lezione di tributi locali e fiscalità oggi a Palazzo di Città, temi dal duplice interesse oggetto di un corso di aggiornamento professionale per gli amministratori condominiali ma validi anche per i progetti di alternanza scuola-lavoro degli istituti Masi, Pascal e Pitagora College. La NACI, Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari, ha introdotto da ormai quattro mesi nelle scuole di Foggia il diritto condominiale. Sono previste in tutto 400 ore in tre anni di incontri e stagie negli studi. In occasione dell'evento formativo, Comune e NACI Provinciale hanno sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato principalmente a collaborare per incrementare e migliorare le attività di formazione e innovazione delle figure professionali aderenti all'associazione. L'accordo prevede anche attività volte a favorire la promozione e realizzazione della raccolta differenziata in sinergia con Amio. Noi come ANACI possiamo dare, credo, un ottimo contributo al Comune di Foggia e inoltre abbiamo chiesto anche se sarà possibile l'apertura dello sportello in base al 27 bis del codice del consumatore. Questo magari verrà fatto più in là e al tempo stesso abbiamo anche chiesto al sindaco una reciproca collaborazione. Tra l'altro siamo loro amministratori pubblici, noi amministratori di condominio, ma gli intenti più o meno sono gli stessi. Come promuoverete dunque la raccolta differenziata all'interno dei condomini e degli immobili? Su questo attendiamo un regolamento specifico giusto per sapere eventualmente come muoverci e come cercare di inculcare nella mentalità dei condomini e quindi dei cittadini questa raccolta differenziata dove ormai in tante città italiane viene fatta, viene svolta, qui ci riesce un po' più difficile però prima o poi anche a Foggia deve essere fatta.